Oggi c'è guerra, Spagna-Italia finale. Io tipo per la Spagna e la sto guardando qua. Al fine ma vedere chi è che ti fa la Spagna e chi è contro di me. Guarda, guardateli, guardateli che guardano la Spagna qui. Non può farla llorar alla chitarra di Glory. Ciao, ciao!